buonasera buonasera a tutti buonasera 01 buonasera a voi tutti che arriverete un po di musica si venuti qui alla discoteca 57 non so perché 57 questo è che il numero civico del mio ufficio che prima o poi non so se mi daranno lo strato chissà per i rumori molesti vedremo anche perché stasera è un po di casino lo facciamo come state buonasera a voi stamattina è freddino parecchio ma parecchio parecchio freddo che sono nelle stavate di a naso praticamente vediamo lì c'è non vedo non vedo ciao buonasera buonasera ho cercato di spararmi nel mezzo dove si fanno con i tegni vedo qualche spazio conosciuta dopo la carrerese mi sembrava si all'idea che non ci credi non ci credo bene, fa piacere vedo un capo pieno di riccioli vedo delle piccine così che qui è un po' dura fatele ridere, fatele timide aspettate che la facciamo non è cambiato, non è cambiato non è cambiato, non è cambiato ciao Guido no, grande no, no anche te, di sera da sgranare, stasera quindi voi, guardate un pochettino e poi le tante le 6 stasera un po' di piadine eh, le tante le sono fatte in casa eh, rigorosamente fatte in casa come state ragazzi? si risulta perché poi laggiù sicuramente non mi sentite qui mi sentite meglio stasera faremo una ride tra l'interval training e e l'allegamento piramidale quindi ci diamo dentro eh ci diamo dentro tanto le faccio scaldare un po' con la musica di quelle che piacciono a noi faccio scaldare un po' l'animo eh come state? ditemi qualcosa intanto eh che mi raccontate ti faccio meglio non parlare dai lasciamo ventili eh spagnatevi ogni commento gentilmente vedo un po' di pollicini vuol dire che state belli dai pazzi ciao come stai? ciao in sella grande che onore grazie che onore dove sono? 18 e 24 mi piace da dircazzare per 6 minuti? eh ma a me mi riesce non c'è i miei problemi grazie a parte ci sono i nostri governanti che ci pensano vero? e sai che tireranno fuori quando parlano della zona gialla rinforzata e mi sembra l'aperitivo cioè mi fa un campanino rinforzato così con lo schizzo di vino ovviamente quel prosecco o come diranno a Livorno la bicicletta si aspetta a partire ci sono anche 5 minuti non ti preoccupare poi ci raggiungi si preoccupare tranquilla il Brunello io di solito e io lo bevo ogni tanto per fare di venire in mente il mitico Brunello il personaggio faceva prende in tette Brunello ricordate quello che li rubavano la bicicletta mentre mi rubano questo stavo finito perché fanno matti non ce la fa più comunque c'è un monte di gente al giro c'è un traffico ieri sono stacato a Rezzo che dici la pedala con noi si deve farse dai stasera ci fa l'onore stare con noi dai è un onore tizi romoli ciao ciao Natascha bene quattro minuti ciao Simone andy fate fate un calmo dai mancano ancora quattro minuti eh vabbè comunque ora la gente comincia allentare troppo eh io l'ho visto un giro che si apisce dei polsi sono a 45 metri quadri per stagire dentro una persona dei polsi in 45 metri quadri con 36 vabbè lasciamo che ciao Barbarina ciao Berni ciao tesoro visto Antanè che c'era giro Polina ti sei cambiata la velocità della luce praticamente perché prima che prima ci devono in via per poter andare a sciare prima che ci siano delle regole tali per cui si possa andare in sicurezza ci vorrà di tempo vabbè vabbè quindi se c'è tanto vuol dire che la durerà che si deve fare vedremo altra parte ormai me ne sono fatto una ragione me ne sono fatto una ragione d'altronde che sa a fare eh si mannaggia ciò si può andare in qualche altra ciascolare perché ce n'è talmente tanta che dal fondo a mezza gamba anche ho le ciascole ora il calcino la diventerà dura come il marmo perché con le temperature che ci sono a maresca dove ci sta il mio cugino ieri c'erano meno 8 a maresca che sono 700 metri allora dai 2008 non vedevano così tanta nede a me me lo ricordo bene a me comunque basterà anche quella che la si scioglie il virus un po' meno però mi raccomando quando si potrà io sono un fattore del vaccino un fattore nel senso che penso sia tutte le cose ci può salvare insieme un po' di intelligenza eh e comunque speriamo che sia disponibile presto per tutti così magari ciao tevi eccola magari si riesce anche a riabbracciare davvero ma manca un minuto lo scoglio si fa per dire anche perché sai lo spettacolo non so grosso è da strano ma come comincio a fa caldo quindi la questa bene bene faccio concludere questo brano per poi partire con la nostra ride ciao Giovanni grande mi fa piacere bene sono circa otto minuti e mezzo per scaldare le gambe poi cominceremo lentamente a fare le nostre progressioni andando a lavorare con tecniche diverse sia con running che con jump che con la salita mi raccomando dosate bene le forze ricordatevi che andiamo a lavorare sia con un sistema interval quindi di lavoro X di recupero quindi in rapporto sempre 2 a 1 quindi la metà del tempo di recupero rispetto a quello che è il tempo di lavoro e in maniera piramidale quindi portando sempre più sul cuore fino all'85% e oltre per ogni tipologia di di andatura parlato anche troppo faccio partire il video faccio partire la musica e buona strada a tutti e buona strada a tutti dove è andato dove si è andato perché si è andato qua no no e penso a volte faccio partire qua no faccio partire qua qui lentamente vai a cercare la strada senza fretta facile 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 ciao ciao sandro ciao grazia prendi contatto con la strada eh senza fretta con il minimo di contatto appena sotto i pedali che ti consente di scaldare i muscoli che che grazie 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 dai Pele cerca la strada facile eh ditemi se va bene voce e musica basta un pollice che è più facile senti gioco alla volta il cancro delle sensazioni sotto i pedali vai alla ricerca del 65% quella sensazione piacevole di calore nei tuoi muscoli ok grazie ragazzi facile eh io lo so eh lo so lo sento ascolto il mio cuore tutte le notti eh manca il giorno I wanna love you si entra sulla strada ciao Cristiana facile eh si pam 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 si inserisca qualcosa in più appena eh da davanti nel mio riscaldamento andando a usare running davano appena di rbm ciao maria ciao maria primi piccoli tratti di running 3 2 1 vieni prendi contatto eh con la tecnica con il ritmo 3 2 1 sei là una natura facile semplice eh ricordati che stai scaldando le gambe torno running andiamo su ascolta il cuore 65% il tuo obiettivo scendi se vuoi piccolissimo appena eh stesso tempo in sella stesso tempo un po' di sella 3 2 1 andiamo su ascolta eh ascolta il cuore 3 2 1 sella ciao Gianluca andiamo ancora uno vieni senti come è facile eh il tuo cuore non va tanto più su saletto nel 65% sella ricordare un po' di reazione ai nostri gambe 4 tendini di ciampa 3 2 1 sol 3 4 rimango giù sei lì ho poco tempo a leggere 3 2 1 sol 4 4 4 cambia la strada hai concluso il tuo riscaldamento e incomincia piano piano tu lavora tu lavora tu lavora sul cuore sulle emozioni inserisci qualcosa in più vai un piccolo tocco alla tua resistenza senti saprai arrivare in anica eh la prima volta ad andare un stio più sotto il cuore andiamo sei una volta assieme sei senti la strada ascolta il cuore sei sei lì facile spira eh 3 2 1 torna torna giù respira il cuore si abbassa prossimo giro andiamo a fare qualcosina in più aspetta prima stesso tempo piccolo appena eh basta appena un millimetro della tua resistenza a far cambiare le sensazioni secondi andiamo so 30 secondi Senti, ascolta il cuore, 70%, ci sei, stai, stai, le, scendi, respira, percepisci l'abbassamento del battito cardiaco e ora senza toccare la resistenza basterà allungare il tempo fuori sella e il cuore tenderà ad andare ancora più in su. Preparati, già sai, e sai, tre, due, uno, sei. Più lungo, 45 secondi. Senti, ascolta il cuore, senti, che fa qualche battito in più, mi sbatta prima, sei. Sei qui. Sei qui. Sei qui. Sella. Rientra. Di nuovo. Ritroveremo il running. Stessa velocità, stessa resistenza. Provo a estendere il battito. 75%. Andiamo. Andiamo. Bravo a mantenere lì, eh. E Stai Stai Per 75-80% E sei di un battito Controlla Controlla Vieni, figlio Surrenica Sei lì Sei lì Scella Fai rientrare Fai rientrare il tuo battito Proverò A fare qualcosa in più Calano Gli RPM Lo senti questo richiamo? Si chiama i running Re Dove Uno Piccolo Su Yeah Abbasso la velocità Aumento la resistenza E allungo il tempo Un minuto Un minuto Sei Buon 80% È lì Lo porto lì Lo porto lì All'80% Sei Un minuto Un minuto ci siamo bella rientra 30 secondi e poi un altro minuto poco più vieni andiamo 80 80 per cento 6 stai con me stai qui con la musica sotto quale 80 per cento non è finita c'è anche un po' di tricione 6 stai rimani torno se bassano ancora l'ultimo salto con running fino all'85% ci sei? non so che ci sei fatti vedere 1 minuto e poi c'è mezzo andiamo yeah 6 grandi alleluia 6 lo dirai quando sei arrivato in cima a questa prima piramide brava piccolo 6 6 6 lo senti eh bruciano va malo piccolo uuuu 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 85% ci sei da scendi apri per entrare il cuore lascia andare le gambe cambia la strada 1 shot 1 shot cambiamo strada cambiamo gioco e allora jumpa strada le CNN c'è 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 l' demonstra c'è il Sì, stai Tieni bene Squadre, squadre, squadre 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 6 6 4 4 4 4 5 4 4 6 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 20 21 4 rimane qua giù apro la pena lascio andare le gambe perché ritroveremo jump un po' più veloci quindi ci porteranno questo cuore più facilmente andiamo a costruire la nostra piramide yeah ma ti rotevo coperti sì 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 vai si sella rimane qua fermi guai si prossimo giro dobbiamo fare qualcosa in più dobbiamo fare qualcosa in più se ti vuoi dobbiamo fare qualcosa in più dopo appena resistenza quanto tempo? più lunghi? non mi dico quanto vediamo ok 6 7 7 7 7 7 7 e metà giamba 6 6 non c'è bisogno neanche di compagni ottimo stai in sella brava 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 un minuto di gioco 30 secondi in sella facendo entrare la penne del cuore e poi chiedere il gioco e provare il gioco e provare un po' di qualcosa in più come prima 1 8 3 4 20 dai qui dai 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 dico vai 6 Si cambia 2 3 6 6 Let's go 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 Entra il cuore Non è finita eh Perché non dovresti essere arrivati All'85 Non dovresti essere arrivati intorno all'80 Facili eh Cieni la di quelle un minuto e mezzo di giampa 8 4 2 6 vinto andiamo 7 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 8 10 10 10 11 11 12 13 15 15 16 16 17 17 17 19 17 19 20 20 20 21 19 22 23 25 25 andiamo! una sola indirizzo si! ho fatto il 5 si! scendi, rimani lì fai rientrare come stai? da qui cambierà cambierà dai il tempo per quel minuto al tuo cuore di rientrare asciugati il tuo cuore dentro e poi piano piano questo è un run in monta leggerissimo vieni salto più bella di più bella di giro intorno alla vita un giro intorno alla vita poi faremo un giro intorno alla vita noi a questa eh si! salà ricordati che hai 18 minuti davanti a te e solo in fondo negli ultimi 8 minuti potrai 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 il cuore oltre 80-85% eh! bene senti come il cuore si è stabilizzato allora piccolo andiamo salto salto rimani qua salto salto e todo il colore andiamo salto la prima conoscenza con la stand in monta piccolo, andiamo sol facile e io scendi apri uno ve la ricordate? questa voce, ve la ricordate? mi ricordava la nota? portava i topolini una volta tanti anni fa alla zona dell'est ho diventato un po' più calcivello e anch'io aggiungo quello che avevo tolto e bravo a fare qualcosa in giù cos'è Anna? standing, mountain 16 tempi, 4 volte contatto andiamo sella la stessa andiamo andiamo scendi una testa 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 19 20 20 20 20 20 20 qualcosa in più, contatto, 80%, 6, 6, 3, step, 20 secondi, 6, scegli, va brutto, vai rientrare, vai rientrare, vai ad entrare e poi il cuore fermiamo in pennezza allungo la stagione montagna va bene di aperto torno a chiudere hai chiuso? 3, 2, 1 vieni forti, potenti vieni sempre più su sempre più su porterò per la prima volta all'85% vieni 4, 2, 1 vieni 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 Non lo so. Comperate la nostra cacinta. Forza. Devi chiudere. Aspettate un cuore. Vieni. Dai. 30 secondi da qui. Wow. Bien. Stai. Stai qui. Stai. 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 Good. Good. 1 teniziella apri vuoi tornare un po' dietro al cuore vuoi tornare indietro un po' il cuore ti ho tirato all'85 non hai paura apri pure apri pure adesso dovrai a stringere tornerai a stringere tornerai a stringere senti e piano piano la tendenza è tu quella ti hai ritirato poco quel tanto ci basta per tornare tu contatto 6 stai 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 qui stai qui con me stai qui stai qui stai qui vieni 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 apri uno uno solo e stai qui di nuovo, è andato a circo del centro frigo, vieni sei, sei parti, potenti guarda che torna su, sei bruciano eh, è normale sei, 85 stai, stai si sei tre, due, uno, go apri non è finita non è finita non è finita sfrutta bene questo momento sfrutta bene questo momento sfrutta bene ti pedalano tanto la riconosciuta bongo sanga 4 minuti 3, 2, 1, set buona crescere è scolato tutto hai scolato tutto dai torna giù torna giù torna giù torna giù strengo le senti le senti le senti allora circo start 4 minuti 2, 1, set 5, 2, 1, set 5, 2, 1, set 6, 7, 7, go 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, andiamo, 7, 7, 7, rimane qui, apri, l'ultimo eh l'ultimo standing mountain acceleration è a casa apri eh se lo hai aperto fallo perché poi sono dei smingeri attenti 3 3 3 3 7 2 andiamo stella stella go! quindi rimani qua si! ah! ci sei! pare il suo ultimo eh! uh! accendi! picco! e accelera! accelera! si! uh! eh! bravi! bravi! uh! grandi! lascia andare le gambe! le mie scuse sono inutili ma non posso stare senza dirtela se bastano anche che lasci andare il cuore! non è facile eh! per voi per noi fare le azioni da casa dal mio ufficio lo stesso apri la resistenza fai scendere il cuore dallo spazio non lasciarmi andare via vorrei non andare via rimanere qui con voi ancora vado a scivolare la strada su queste belle note fai rientrare il tuo cuore adesso ne sono andati 52 minuti già sono andati sono andati vado via leggere spero siete stati bene sicuramente avrete fatto un buon allenamento non solo per il cuore per le gambe ma per la mente tutte le vostre emozioni e se per un'ora sono riuscito a portarvi fuori dai vostri pensieri il mio risultato è già raggiunto senti che può fare solitamente sta scendendo sempre di giù leva le tensioni dalle spalle e le gambe vanno in pieno controllo in un pieno controllo comincia ad aprire sempre di più fino a liberare tutta la resistenza dal volano lasciamo andare le braccia le gambe che lentamente si fermano dal sole le fermo faccio un attimo di stretch porto su in alto allungo la schiena abbasso e porto dietro la schiena incrocio spingo giù allungo il terazio lascio andare porto le mani in sei lo tengo su stingo giù bene i talloni faccio un mezzo giro comincio a ringraziare che magari escono un po' prima per preparare la cena lo tengo schiena stacco lo tengo Pag. Lovo. Ascandare. Dava. faccio andare adungo la schiena vado giù vado la schiena giro faccio andare vado giù come sono le spalle rischio solo profondo fuori l'aria solo quella vedete lì dentro le emozioni mi raccomando grazie a tutti grazie Gita, grazie Simona grazie Daniela è stato un po' crosta vai la prossima settimana si calca un po' di più torniamo un po' lezioni un po' più tecniche la risponiamo un po' più fun grazie Male grazie 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 a voi se siete stati meravigliosi schienvi come sempre pensate sui commenti spero di vedervi presto però di potermi vedere in faccia no, da una figurina su un telefono però meglio che niente in alto si diceva ringrazio 01 che ci dà questa possibilità mi raccomando subite tutti gli altri corsi tutti gli altri miei colleghi di tutte le discipline ce ne sono tanti avete visto continuate a seguirci state con noi perché anche noi abbiamo bisogno di voi per trovare nuovi stimoli per andare avanti con le nostre lezioni io vi mando un bacio grande e enorme a tutti vi ringrazio perché siamo il mondo siamo i campioni voi siete i campioni per non mollare mai vi raccomando e come dico sempre sorriso sta bene a voi sta bene a me e non costa niente ciao Paola un bacio a tutti buona serata